Questo è il secondo video dedicato ai provvedimenti sulla patente, ovvero ritiro, sospensione, revisione e revoca. Quattro provvedimenti completamente diversi tra loro. Nel video precedente ci siamo concentrati sui casi di ritiro e sospensione. Se non l'hai visto lasci il link qui sotto in descrizione oppure basta cliccare sulla scritta che compara adesso qui in alto a destra. In questo video vediamo insieme i casi per cui sono previsti i due peggiori provvedimenti sulla patente, ovvero revisione e revoca. Iniziamo! Mi auguro che nessuno abbia mai a che fare con la revisione ma soprattutto con la revoca della patente. Non che ritiro e sospensioni siano simpatici ma revisione e revoca sono sicuramente peggio. Cerchiamo di capire prima di tutto che cosa sia la revisione che può essere disposta dagli uffici della mobilizzazione civile o dal prefetto. Questo provvedimento viene prescritto principalmente nel caso in cui si perdono tutti i punti sulla patente ma soprattutto qualora dovessero sorgere dei dubbi sul persistere dei requisiti fisici e psichici nonché sui requisiti tecnici. Che cosa significa? Significa che è successo qualcosa che ha fatto appunto sorgere dei dubbi sul fatto che si possiedono adeguate capacità fisiche e psichiche per poter condurre come si deve un veicolo nonché dubbi sulle capacità tecniche necessarie a guidare ovvero siamo in grado di utilizzare correttamente i comandi dell'auto? Conosciamo bene le regole della circolazione e le sappiamo rispettare mentre siamo alla guida? La a togliere o a confermare questi dubbi e in quale modo? A seconda dei casi sottoponendosi ad un'apposita visita medica e o ad un esame di donità tecnica che consiste in un esame teorico ed uno pratico. Quindi forse solo la visita medica, forse solo l'esame di donità tecnica o forse entrambi. Nel caso in cui le prove vengano superate positivamente continueremo a mantenere la nostra patente. Nel caso in cui purtroppo non si riesca a superare l'esame di revisione la patente ci verrà revocata ovvero buttata via ma di revoca parleremo tra poco. La revisione verrà prescritta nel caso in cui si perdono tutti i punti sulla patente o si commettono in un anno tre infrazioni da almeno cinque punti ciascuna. In caso poi di guida in stato di abbrezza sotto l'effetto di sostanze stupefacenti per cui sono previsti anche il ritiro immediato e la sospensione e nel caso in cui si vada in coma per un periodo superiore a 48 ore e poi ancora qualora si causa un incidente con feriti che riportino lesioni gravi non quindi di qualunque entità e poi nel caso in cui un minorenne commette un'infrazione che comporti la sospensione della patente. Passiamo adesso alla revoca che può essere disposta dagli uffici della motorizzazione civile, dal prefetto e dall'autorità giudiziaria. Per spiegarle in parole semplici revoca significa prendere la patente, farla in tanti pezzetti e buttarla via. La patente non esiste più. In alcuni casi sarà possibile rifarla da zero, in altri casi i più gravi non si dovrà più rifare. La patente verrà revocata in caso di perdita permanente dei requisiti psicofisici, mi raccomando permanente e non temporanea come per la sospensione. Nel caso in cui poi si inverte il senso di marcia in autostrada o si provochino incidenti gravissimi oppure qualora come detto poco fa non si superi l'esame di revisione. La patente verrà revocata anche quando si circola nonostante fosse stata sospesa e nel caso in cui venga sostituita con una rilasciata da uno stato estero visto che non è possibile fare la collezione di patenti. Quindi in questo caso la patente verrà revocata per essere poi sostituita con quella rilasciata da un altro paese. Pochi e semplici casi direi da ricordare per la revoca della patente. Adesso bisogna mettere insieme e memorizzare bene quello che ho spiegato in questo video su revisione e revoca e in quello precedente su ritiro e sospensione. Nel prossimo video ci metteremo alla prova con i quiz specifici su questo argomento ovvero con le domande che si potrebbero anche trovare all'esame teorico per il conseguimento della patente. Ci rivediamo presto quindi sempre qui sul canale guidare oggi con Andrea